Uno dei miei sandwichi preferiti, salsiccia e salsa di peperoni, delicata e saponita. Perfetta con un pane reso croccante dalla pittatura. Che ditelo, prepariamo insieme. Disco il peperone. Lo taglio a buon attimo. Un minuto sopra, iscrivetevi al canale, mettetemi un like e condividete la ricetta. L'avete fatto? Grazie. Proseguo con la ricetta. Taglio a metà il pomodoro. Verso un po' di una bella. C'è un po' di fuoco. Mettiamo l'aglio. E poi un po' di mignone. Peperone. Basilico. Un po' di sale. Faccio cuocere, faccio cuocere 10 minuti e adesso spegno, levo l'olio, li metto in un contenitore, qualche pomodorino lo conservo per metterlo poi sopra il pane e metto il formaggio spermatico e aggiungo il pepe e frullo tutto, accendo la padella metto a cuocere la salsiccia, inizio a trattare il pane, metto il pane, metto il pane, metto il pane, metto la salsiccia, metto il pane e la salsiccia, metto il pane e lo spango, la salsiccia l'ho fatta cuocere un quarto d'ora, e la salsiccia, metto il pane e il pane, Aggiungo i pomodorini. Aggiungo la foglia di basilico. A chiudo. E' fantastico! Se la ricetta vi è piaciuta, iscrivetevi e mettetevi un like. Ci vediamo alla prossima serie di ricette. Ciao, baci, ciao!